Ottant'anni fa l'ecidio da parte nazifascista di 51 persone appartenenti alla Resistenza ma anche rastrellati, i cui corpi vennero esposti alle finestre e lungo la scalinata di quello che ora è l'edificio che ospita il Conservatorio Tartini. Una pagina di storia disumana, troppo a lungo taciuta, che gli stessi triestini forse faticano a ricordare, già che nelle intenzioni dei tedeschi l'esposizione di quei cadaveri doveva suonare come un monito. Da qualche anno il Conservatorio Tartini commemora quell'episodio nel miglior modo possibile, ovvero lasciando che sia la musica a risuonare in quegli spazi che furono luoghi di dolore. Anche stamani dunque, dopo la deposizione delle corone all'esterno dell'edificio, tre studenti del Conservatorio hanno eseguito un brano di Boccherini, preceduti dalla lettura in italiano e sloveno di un brano scelto dal professor Roberto Spazzali. Poi in Aula Magna i saluti del direttore e del presidente del Conservatorio Alessandro Torlontano e Daniela Dado e l'intervento del sindaco di Postumia. Tutto senza fronzoli, senza sfilate, con lo scopo di far risentire in qualche modo le voci e le storie di quelle persone il cui impegno e il cui sacrificio non sono in vani. A maggior ragione al termine di una cerimonia impeccabile conclusasi con un'altra musica eseguita dagli allievi del Conservatorio di Postumia, preceduta dal ricordo di Laura Petracco, una delle vittime, qui è dedicato uno spettacolo che stasera, sempre al Tartini, chiuderà la giornata.